Berga YouTube, la serie dei 5 video di febbraio 2024 dedicati alla lingua di Erodotto, in particolare rivolti dunque agli studenti del terzo anno dell'Icio Classico che fanno i conti con il dialetto ionico. La copertina che vedi davanti riguarda il primo video, quello in cui faccio il punto sulle caratteristiche fonetiche e morfologiche del testo di Erodotto e invece altri video, gli altri 4 che sto realizzando in queste settimane sono dedicati alla traduzione guidata, cioè si traduce insieme puntando alla comprensione del testo ma soprattutto al ripasso delle regole fondamentali che è sempre bene ricordare e avere presenti. Ho detto tutto, possiamo andare a incominciare e quindi ti presento subito il testo. Questo è il testo ma come ho fatto nelle volte precedenti ti invito a fermare il video, a leggere attentamente e a fare conto di quelle che possono essere le forme del dialetto ionico che evidentemente vanno trasformate nelle corrispettive forme dell'attico prima di procedere alle analisi, all'analisi del testo. Ed eccole qua le osservazioni da fare sul testo di Erodotto. La prima è nella prima riga, questo epeirota è un imperfetto attivo, terza persona singolare, il verbo è ep-erotao scritto con l'epsilon ma nell'imperfetto la forma risulterebbe in attico eperota e quindi qui epeirota è leggermente differente per l'esito della vocale iniziale che è ei. Poi abbiamo nella seconda riga questo eonti che in realtà è un participio presente da eimi che risulta avere questa epsilon davanti quindi in attico suonerebbe come toonti. Poi abbiamo a pozzo masas in cui quel omega in realtà in attico risulterebbe au. Quindi abbiamo questo fenomeno per cui il dittongo au dà come esita nello ionico omega. A pozzo a umazzo vuol dire ammirare questo visto che c'è il zas finale sarà lo diciamo subito un participio auristo sigmatico maschile singolare. Alla fine della riga abbiamo questo coie che vale per poie. Che cosa succede? Succede che la consonante labio velare che risulta p nell'attico nello ionico invece risulta k quindi coie ed è sta per poie ed è e vuol dire come mai. Ho saltato epistrefeos lo recuperiamo subito è una forma ionica perché presenta alla fine quelle due vocali epsilon e omega che in attico invece risultano semplicemente come epistrefos nella forma contratta. Scendo alla fine della riga successiva abbiamo tes polios questo è facile da riconoscere sta per tes poleos che in attico si scrive così. Che cosa succede? Succede che quelli che sono i temi in iota debole quindi soggetto ad apofonia nella terza declinazione come polis in realtà conservano la iota e non hanno dunque nello ionico il fenomeno dell'apofonia. L'ultimo rilievo è quel sfi che sta per autois quindi inteso come pronome personale. Credo che abbiamo individuato tutto. Procediamo con la traduzione. Partiamo dall'identificazione dei verbi abbiamo elpizon participio presente di elpizo sperare ci sta dunque che ci sia un einai subito dopo sperare dio sperare che. Eina è un infinito presente di eimi. Poi abbiamo epeirota che è un imperfetto terza persona singolare attiva di eperotao. Poi abbiamo ipozopeusas che una forma finisce in zas quindi un participio auristo primo cioè sigmatico maschile nominativo singolare. Il verbo tolgo il sigma è ipozopeuo. Ipeozopeuo significa adulare. Poi abbiamo toeonti che è un participio sostantivato da essere che vale come realtà come verità e questo il significato lo trovi riportato sotto i mi e quindi chresamenos da chraumai servirsi e quindi è un participio auristo medio e il nesso chresamenos toeonti significa servendosi della verità facendo ricorso alla verità e quindi eimi nel senso di essere realmente da qui che si deduce da qui deriva il significato di verità o realtà e poi c'è leghei che è l'indicativo presente terza persona singolare e quindi abbiamo risolto la questione dei verbi e a questo punto consideriamo che i protagonisti di questa breve versione sono creso e solone un episodio raccontato nel primo libro delle storie di erodoto un episodio incentrato sul senso della felicità. La nostra versione incomincia subito dopo il momento in cui creso ha chiesto a solone chi ritenesse l'uomo più felice sulla faccia della terra soltanto che creso e di parte perché ha appena esibito a solone tutte le sue ricchezze per cui la sua attesa è che solone riconosca in lui l'uomo più felice della terra ma come vedremo questa non fu la risposta di solone e allora homen rappresenta creso e il pizon e inai e poi c'è olbiotatos che vale come predicato nominale olbiotatos attatos quindi un superlativo e questo antropon è un genitivo partitivo la principale è peirota tauta cioè si riferisce a quello che aveva appena chiesto creso la traduzione egli sperando di essere il più felice fra gli uomini chiedeva queste cose e poi in antitesi con questo abbiamo solonde ma solone non adulando per nulla cioè senza fare complimenti senza alcuna adulazione ti ricordo che quando c'è il participio con una negazione euden è una forma pronominale negativa si può tradurre con il senza in italiano ribadisco solo ma solone non ma solone non avendo adulato per nulla oppure senza adulare per nulla ma cresame nosto eonti servendosi della verità facendo ricorso alla verità dice o basileo ora è il vocativo rivolta creso tellon azenaion cioè tello l'atteniese appozzomasas participio auristo da zaumazo è un composto concorda con crozos è un participio congiunto tolexen è un altro participio in questo participio indubbiamente risalta la presenza di questo zè che è il suffisso dell'auristo passivo infatti lexen è un participio auristo passivo della prima forma di dire leggo dire e vale quindi come la cosa detta inteso come la risposta poi abbiamo eiretto che è un imperfetto da eiromai che significa chiedere epistrefeos è un avverbio e poi crineis la domanda è coi ed è poi ed è come mai crineis seconda persona singolare di crino è einai quindi c'è una proposizione infinitiva crino significa giudico ed einai è il verbo della mia infinitiva verbo essere infinito presente il soggetto è tellon e einai olbiotaton vale come predicato nominale andiamo con la traduzione allora de creso meravigliato si per la risposta per le parole di solone eiretto epistrefeos chiedeva con interesse chiedeva con forza come mai poi ed è crineis ritieni che tello sia il più felice odè ed egli eipe che significa disse eipon è l'auristo secondo di dire poi abbiamo ecuses che è un participio presente che risulta declinato al genitivo femminile singolare quindi sta con tes poleos e poi c'è anche l'avverbio eu al genitivo vale come genitivo assoluto abbiamo esan per cui soggetto è paides caloite cagazzoi esan e poi c'è tello come dativo e quindi avremmo un su un proabeo a tello erano figli e quindi tello aveva figli caloite cagazzoi belli e buoni e poi c'è il genitivo assoluto da tradurre ma devo prima proseguire con l'identificazione dei predicati verbali eide da eidon auristo secondo di orao vedere ed è interessante perché quando c'è orao che è un verbo di percezione allora possiamo star certi che nei dintorni ci sarà un participio predicativo li abbiamo chiamati ce ne sono due e genomena che concorda con tecna da ecchigno mai è un participio auristo secondo e poi abbiamo anche parameinanta da parameno in questo caso è un participio auristo primo però della forma assigmatica e ancora abbiamo eu e conti che è sempre un participio e che evidentemente è concordato sempre coltello di sopra e conti participio presente maschile singolare dativo e poi da ultimo epe geneto in cui riconosco una forma dell'auristo secondo di epighignomai come soggetto ci sarà teleutetu biu e poi epe geneto lamprotate ritorniamo sopra o de eipe e degli disse allora nella costruzione devo identificare che c'è tutto men e tutto de che sono in correlazione non si traducono se non in modo avverbiale da una parte dall'altra innanzitutto inoltre sono in correlazione allora la traduzione tes polios eu ecuses quando la città era prospera da una parte te lo aveva figli belli e buoni cai sfi apasi e a tutti quanti loro vide nascere figli e tutti restare in vita questa è la resa dall'altra parte invece quando era in salute nel corso della sua esistenza eue conti tu biu o sta parai min per quanto sia possibile presso di noi questa è un'espressione che si rende in questa maniera per quanto par e min presso di noi e poi abbiamo teleutè tu biu lamprotate epe geneto avvenne una fine della sua vita cioè ebbe una morte e lamprotate molto illustre molto splendida e allora qui si interrompe la spiegazione ma il senso di quello che abbiamo tradotto è che solone ritiene che tello sia stato oltremodo fortunato per quale ragione perché ha avuto figli a sua volta i figli gli hanno dato dei nipoti e quando era ancora in forze per quanto è possibile nella condizione umana e incontrò una fine della vita molto splendida e qui ci fermiamo in realtà se per tua curiosità volessi saperlo ha trovato una morte gloriosa in battaglia questo era il quarto video di quelli che sto realizzando per affrontare il testo di erodoto se il lavoro ti è parso utile ti chiedo un like è solo questo il compenso che ti chiedo ti chiedo inoltre di condividere il video con i tuoi compagni per dare più visibilità a queste playlist del berga youtube dedicate al greco se avessi bisogno di ulteriori chiarimenti approfitta dello spazio tra le descrizioni sotto il video e intanto ti auguro buon lavoro